Siamo costretti a tutelare la nostra regione, rivolgendoci al Tribunale Ordinario dell'Aquila, affinché questa vicenda dell'incompatibilità tra la carica di senatore e quella di presidente della regione che riguarda Luciano D'Alfonso, finisca e si permetta agli abruzzesi di tornare al voto per decidere del proprio futuro. E quanto hanno affermato i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, Riccardo Mercante, Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi e Gianluca Ranieri, presentando nel corso di una conferenza stampa il ricorso inoltrato presso il Tribunale dell'Aquila. Il presidente D'Alfonso è incompatibile dal 16 marzo, giorno in cui la Corte d'Appello lo ha proclamato senatore, si ostina contro quella che è la nostra carta costituzionale a voler restare in tutte e due le posizioni, le raccolte firme non servono a nulla, abbiamo deciso da cittadini di depositare un ricorso affinché sia il Tribunale dell'Aquila a dirgli di scegliere una delle due posizioni. La Giunta per le elezioni purtroppo ha votato a maggioranza e la maggioranza è quella del presidente D'Alfonso, questa maggioranza ha deciso di non tutelare l'istituzione del Consiglio regionale ma di tutelare la posizione del presidente senatore Luciano D'Alfonso, per cui hanno preferito la carriera politica di una persona all'interesse dei cittadini abruzzesi. Il Tribunale dell'Aquila si pronuncerà entro 30-60 giorni perché è un ricorso in materia elettorale per cui i tempi sono assolutamente celeri. L'effetto è che, ce lo spiega una sentenza della Corte Costituzionale, cioè dal momento della notifica del ricorso il presidente senatore non potrà più optare per restare consigliere regionale e dunque presidente di regione ma decadrà.